La stampa di oggi addirittura conferma, grazie ad un'automobilista che ha misurato da Perugia a Creti, occorre più di 60 minuti, insomma, se ne facciano una ragione. Non chiediamo né poltrone, né incarichi, né appalti, né commesse, soltanto la realizzazione di un'opera pubblica che non può più essere rinviata se ne die. Tra poche ore il tavolo ministeriale su Medio Etruria con le analisi costi-benefici sulle ipotesi in campo. Un tema più che maestringente del quale si parlerà anche ad Arezzo nel corso dell'iniziativa dal titolo Stazione Alta Velocità a Rigutino, in programma il 28 ottobre nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo, organizzato dal Comitato Sava e dall'associazione tra Tevere e Arno. Io prendo spesso il treno di alta velocità per Milano, raramente partendo da Arezzo, più delle volte partendo da Firenze, perché non c'è, ad Arezzo. E passando vedo sempre un bel monumento che è la stazione Mediopadana. Allora, Mediopadana-Reggio Emilia, tra Bologna e Milano, tra Firenze e Roma, perché non Medio Etruria. Quindi l'oggetto della discussione è la necessità di avere una stazione meglio Etruria, cioè tra Firenze e Bologna. Il luogo più indicato, più semplice, economicamente più vantaggioso è Rigutino e lo dimostreremo. A confronto politici e tecnici. Siamo abbondantemente convinti, sulla base degli studi universitari, di tecnici, che hanno comparato tutti i presupposti oggettivi, gli stessi che l'Europa chiede a tutti gli Stati membri in ambito di mobilità sostenibile, che le stazioni vadano fatte in linea, sull'alta velocità, là dove concorrono più condizioni, ripeto, oggettive. Non ci siamo inventati proprio nulla. E quei 246 treni giornalieri che percorrono il corridoio direttissimo Roma-Firenze, attraversante ben 82 chilometri di tracciato nella provincia di Arezzo, senza prestare servizio, ci sembra oggi, più di ieri, una necessità urgentissima, non più rinviabile.